immagina di poter avere un browser per android dove puoi finalmente installare le estensioni di chrome che più ti piacciono in questo video vi voglio presentare kiwi browser un browser per android che a differenza del nativo chrome consente finalmente di poter installare le estensioni del famoso browser andremo quindi a provare un paio di estensioni nel video che ritengo davvero interessanti just read che vi consente di leggere in modo pulito una pagina togliendo banner e pubblicità e read aloud un'estensione che ritengo ancora più interessante perché ci consente di far leggere un text to speech dal testo al parlato quindi vi leggerà la pagina mentre magari state guidando camminando passeggiando o che so correndo e potete anche spegnere il telefono eccolo qui quindi lo trovate nel play store vedete che nelle recensioni appunto è scritto che miglioratissimo supporta l'estensione addirittura gli user in javascript nativamente quindi è molto interessante alcuni anche dopo firefox hanno abbandonato firefox a favore di kiwi browser che tra l'altro è fatto in estonia io lo utilizzo ovviamente come browser secondario quando proprio appunto voglio andare in qualche sito togliere i banner oppure voglio far leggere la pagina quindi rimane comunque chrome il mio browser principale di navigazione procediamo quindi con l'installazione apriamo per la prima volta browser vengono proposte delle pagine vediamo come si comporta clicchiamo su uno dei link che abbiamo qui a disposizione risulta essere veloce come chrome forse per certi aspetti anche un po più veloce in certi momenti mi sembra ed ecco che vediamo tra il menu delle impostazioni che abbiamo tra le varie voci se scorrete con attenzione troviamo anche la voce estensioni cliccando su estensioni you can find extension here vedete quelli installati cliccando su google ci porta direttamente alla pagina accettiamo la prima volta che l'abbiamo aperto la pagina di google delle estensioni e qui possiamo andare a fare la ricerca dell'estensione che ci interessa la prima che andiamo a provare e vedere subito e che mi è piaciuta davvero molto è un'estensione che troverete digitando just read come lettura e basta è una cosa che integrata in safari ad esempio questa possibilità di vedere le pagine in modo pulito cliccando sulla barra degli indirizzi safari diciamo nel ios negli iphone cosa che mi mancava da quando sono passato ormai da anni da android scusate da ios di nuovo ad android quindi andiamo su just read eccola qui a cinque stelline buone recensioni per installarla è molto semplice basterà cliccare in alto a destra sulla pagina appunto dove siamo arrivati delle estensioni scorrete adesso ho zoomato un po andiamo sulla destra e cliccare su aggiungi per aggiungerla al kiwi browser clicchiamo su ok compare questa scritta del download in corso e non serve fare altro aprire o altro l'estensione vedete già strida già a disposizione del browser proviamola subito andiamo in un sito che so il corriere punto it si apre anche in questo caso per la prima volta il sito del corriere apriamo una pagina vedete cliccando sull'estensione just read la pagina ci viene riproposta in questo modo maybe later clicchiamo la prima volta che l'apro con caratteri anche più grandi senza distrazioni quindi senza barnere senza pubblicità proviamo qualche altra pagina ad esempio il gazzettino visto che siamo io sono del veneto gazzettino punti andiamo a vedere qualche articolo come ci viene presentato per esempio in questo caso ci appare questo banner di abbonarci cliccando su just read riusciamo a leggere l'articolo questa è una cosa incredibile perché effettivamente come vedete senza fronzoli senza pubblicità riusciamo a leggere l'articolo altrimenti che risulterebbe illegibile quindi occhio a questa dritta andiamo a vedere quindi altre pagine a caso vedete banneroni che appaiono noi cliccheremo sempre sui tre puntini e su just read avremo la nostra bella lettura pulita con caratteri anche più grandi e più leggibili spaziati senza distrazioni da parte di pubblicità e banner quindi molto molto utile e interessante questa estensione proviamo un'altra estensione ritorniamo quindi nel menu anzi vedete che nel menu potete anche impostare il motore di ricerca del kiwi browser tra diversi motori quante è uno che va molto ultimamente a me piace impostare come motore di ricerca invece che google standard in italiano google google in english così trovo magari pagine un po diverse dalle ricerche in italiano ritorniamo quindi alle nostre estensioni proviamo l'ultima delle estensioni che vi volevo presentare oggi in questo video un po nerda un po che avrà poche visualizzazioni che però ritengo comunque potrà essere utile per qualcuno e quindi ritorniamo nel nostro chrome web store nel negozio web di chrome delle estensioni e qui andremo di nuovo a fare la nostra ricerca in questo caso invece che cercare l'estensione just read andremo a provare l'estensione che ci consente di far leggere qualsiasi pagina credo quasi tutte le pagine con read aloud che sta ricerca di dall'auda estensione sta per appunto legge a voce alta legge forte è un lettore vocale da testo a voce andiamo quindi ad installare mettiamo il telefono in orizzontale forse se lo mettevo in orizzontale dall'inizio era meglio si va meglio ma vabbè andiamo avanti qui ci sono tutte le descrizioni legge in varie lingue clicchiamo il solito pulsante aggiungi e abbiamo aggiunto dopo lo download l'estensione automaticamente è disponibile sempre a menu quei tre puntini andiamo quindi subito a provarla su un sito magari possiamo pensare ad un sito dove può esserci del testo un po lungo proviamo digitare qualcosa ad esempio digitiamo libero arbitrio vediamo tra i primi risultati che ci vengono fuori andiamo a vedere qualche sito e supponiamo di essere a passeggio o stiamo facendo una corsa e vogliamo intanto che ci venga letto un articolone da un blog o da qualche parte io adesso ne ho preso uno a caso e quindi vado ad attivare appunto il nostro la nostra estensione che si chiama read aloud la clicco vi ricordo che tra le impostazioni e gli ingranaggi potete anche scegliere la velocità di lettura di solito la alzo un po tendo a parlare veloce ascoltare anche veloce quindi mi piace un po velocizzato ascoltiamo questo è l'audio come viene letto da una voce in questo caso femminile e quindi l'ho provato più di qualche volta quando dovevo farmi leggere una pagina mentre andavo a fare le mie passeggiate o corsette questa funzione in due clic si fa partire e quindi si ascolta la lettura potrebbe essere addirittura di libri volendo di pagine intere ma il vantaggio poi è che si può uscire dalla schermata lui continua a leggere e spegnere anche lo schermo spero che questo video sia utile per qualcuno se vi è piaciuto lasciate un mi piace ciao a tutti ottimo chi crede in dio poi ha forse una idea che siamo noi stessi a creare il nostro destino dio non ha nessuna colpa sulle nostre scelte noi scegliamo se andare in paradiso o all'inferno in vasi alle nostre azioni